Secondo le notizie che circolano dietro le quinte del club italiano, Matteo Politano e Irving Lozzano potrebbero lasciare presto il club e una nuova opzione è già stata studiata, andiamo ai dettagli. Irving Lozzano ha il contratto che termina nel 2024 e un possibile rinnovamento può essere a rischio a causa di un'offerta inferiore. Matteo Politano avrebbe avuto una presunta relazione difficile con l'allenatore Luciano Spalletti, dove ha generato polemiche la scorsa estate. Ma la grande notizia è che il club sta già parlando per portare un possibile sostituto, Samuel Chukwetze. L'attaccante nigeriano da 23 anni è uno dei giocatori più importanti di Villareal, con 34 gol e 28 assist in 190 partite per il club spagnolo. In questa stagione, Chukwetze ha segnato 10 gol e ha dato 8 assist in 33 partite. Con uno stile rapido e abile, Chukwetze è noto come Robben nigeriano, e potrebbe essere il rinforzo ideale per l'attacco di Napoli. Inoltre, ha una stretta relazione con l'attaccante Victor Osiman, che potrebbe facilitare il suo adattamento al club italiano. L'estate scorsa, il giocatore è stato valutato a 25 milioni di euro, il contratto di Chukwetze con Villareal scade nel 2024, il che potrebbe renderlo un obiettivo più facile per il Napoli. Il Napoli dovrebbe investire in Chukwetze? Lascia la tua opinione nei commenti e continueremo a seguire i possibili cambiamenti nel cast di Napoli.